Cerchio e seno, raggio. Cerchio e seno attraverso NT, raggio. Misurate parole e comportamenti. Spegnete inconcludenti entusiasmi. Vincete con la volontà proiettata alla meta finale i moti dell'impazienza abberrante. E soprattutto, praticate l'umiltà in ogni occasione. Vi sia utile ricordare che le esperienze che state vivendo devono essere validi spunti per migliorarvi. Desidero esortarvi a tenere nel massimo conto la creatura che è il nostro prezioso strumento. Non dimenticate mai che siete e sarete sempre debitori nei suoi confronti. Grazie a tutti.